E io fui chiamato lì a succedere a Don Mario Lantini, che è stato il primo parroco della chiesa di San Giovanni Battista Alcolatini. Mentre andavo con le valizie, allora non c'erano i bus, vedevo delle scritte minacciose sui muri, no? Morte ai fascisti, zona rossa interdetta ai preti, ai fascisti. Mamma mia, dico, la chiamata. Allora era il periodo del comunismo, insomma, già più aggressivo, quello che facevano i sitini, bloccava la via Tiburtina quando facevano gli sciopi, via di Scorrenta, occupava le case, insomma, tutto. E in questo contesto prendo possesso della parrocchia. Il padre mi dice, vede, insomma, no? E dice, beh, allora, e allora, te lo guardi, qui c'è una predominanza di comunisti. Non mandano i figli al catechismo, non vengono ammessi, naturalmente non ricevono esattamente. E allora, guarda, figlio mio, tu, come dice il vecchio d'Agio, se Maometto non va alla montagna, allora la montagna va da Maometto. Farai una cosa, andrai a visitare case col pretesto delle benedizioni pasquali, e poi ti devi fermare, non una spruzzata così di acqua benedetta e poi va via per far presto. No, no, ti devi fermare, conoscere le famiglie, fermare, mandare dei figli. E hanno rotto un po' il ghiaccio che c'era. Ma allora, questo prete viene a aiutarci a tenere un po' buoni sti figli, a crescere un po'. Quando hanno visto così, allora prima sono venute le mamme ad accompagnarli, poi piano piano sono venuti anche i papà. L'apostolato deve essere prima una manifestazione di amicizia, di voler bene alle persone. Piano piano, ecco, siamo andati in sintonia, in simpatia, reciproca con molte famiglie. Siccome noi purtroppo in Borgata, me ne avevamo parecchi che, insomma, non ero proprio a posto con la legge. Io avevo una serie di parrocchiani, vero, a Redibbia, e nei carceri, vero, dell'Acea, Civitavecchia, e persino in Abruzzo. E allora mi proposi di andarli a trovare. Il mio programma, ecco, di andare lì a fare il censore, a fare il castigamati. Se andavo per una espressione di carità, andai, mi ricordo una volta, al carcere nuovo di Pescara, quando uno di loro mi scoglie, diciamo, vedi, c'è da un francesco, come se vedessi San Francesco, insomma, no? Allora questo comincia, allora mi viene appresso la braccia aperte, allora ci abbracciamo, no? Stelicori, ma io che sono il parrocchiano, beh, parrocchiano, ex parrocchiano, adesso sei in un'altra parrocchia. E allora mi dico, ma come mai te trovi qui? Io so, so i casi della vita. Mi risponde lui. Io mi son fatto delle risate, stando in confessionale, una cosa un po' paradossale, ma di ogni modo. Perché? Perché c'erano questi, dicevano così, delle cose così. Veramente facevano ridere. Io solitamente domando a tutti da quanto tempo si confessa, perché è una cosa importante. Allora questo è rimasto un po' interdetto e poi però mi ha risposto da quando sono nato? C'erano dei fratellini, ecco, proprio a scaletta così, il più grande sei anni, l'altro ne aveva cinque, l'altro ne aveva quattro. Finito però le confessioni di quelli che avevano fatto la preparazione, io esco fuori e vedo questi, che dico, ma voi che fate qui? Allora mi guardano e dicono, se volevamo confessare. Voi, insomma, voi non avete fatto il cattelino. I due più grandi girarono i tacchi e si avviarono all'uscita, perché dicevano, non c'era. Quello più piccolo invece è rimasto là e puntando la mano verso di me mi dice, tanto che te credi, i peccati li sappiamo fa pure noi. l'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali. Allora io fui nominato e apparve sull'osservatore romano come tutte le nomine che fa il Papa, Giovanni XXIII, quello che mi disse il padre, ricevendomi a Villa Tevere. Io gli avevo mandato una specie di decalogo di dieci punti per i quali io veramente avevo delle forti obiezioni all'accettazione di questo incarico. Il padre, appena mi vide, mi abbracciò dicendomi non tenga smiedo, non aver paura. Ecco, prima di tutto tu non vai a fare il censore, ma vai a testimonare Cristo, non ti scandalizzare di nulla, mi disse. Anzi, queste persone che si trovano in queste situazioni irregolari, a queste persone devi volere più bene perché hanno più bisogno di questa tua carità. Devi farti le amiche di un'amicizia di cui loro non hanno l'idea perché le loro amicizie sono sempre interessate il più delle volte, insomma, no? E poi, guarda, allora lui si tirò indietro, stava seduto, si alzò, fessi come un gesto di fare una specie di voragine per terra, no? Come lì fosse una bis. Tu devi arrivare a mettere il piede lì sull'orlo dell'abisso e poi tenerti così, dice, una mano, questa qui, te la tengo io, la dico, la dico io, e l'altra invece la prendi così a vedere, sì, a vuolo, se puoi prendere a volo, ecco, queste anime disgraziate che vogliono precipitarle giù in questo abisso. Loro non verranno da te, sei tu che devi andare da loro e così ho fatto e facendo così poco a poco sono diventato amico di tutto in giro di persone che certamente non sarebbero mai venute e se non avessi mostrato una simpatia, un desiderio così, è offerto e ricevuto un'amicizia sincera, specialmente con alcuni, persino con Pasolini. Un giorno all'improvviso insomma, proprio mi telefona Fredo Bini annunciandomi c'ho una bomba, c'ho una bomba, dice, guarda, viene a Piazza del Popolo, al ristorante bolognese, allora io curiosino andai lì, faccio il Vangelo, non puoi immaginare chi è che mi ha proposto questo programma e che farà e sarà il regista, Pierpaolo, lo fa Pierpaolo Pasolini, allora, caspita, in un primo momento ho avuto una botta, la pellicola ultimata, quando mi portò la copia ormai finita, insomma, dire, però c'erano delle gravi omissioni, per esempio la risurrezione, non parlava della risurrezione e dopo miracoli un po' stremenziti e questo è ritrontato sul set, è ricominciato la capa, anche cose costose, insomma, però è stato docine, voleva fare un film povero, spoglio, nudo, diciamo, proprio perché è nello spirito proprio del Vangelo di questa essenzialità, questa nudità, questo spoglio, delle cose mondane. Zia Carmen, la sorella del padre, che chiamavamo zia, familiarmente, gli avevano detto, dice, e ha chiesto la missione all'opera del primo italiano, è un po' come dire, un po' bruttino, però simpatico, quando poi lei invece è venuta la prima cosa, che ha spancato le braccia, ha detto, però, non è stanfeo, cioè, però, non è così brutto, come me l'avevano un po' descritto, era, quasi che dove si è vedere una specie di mostro. Ero muy mimado, si dice in Spagna, ero molto coccolato da questa zia, che era la sorella del padre, stato a casa sua tante volte, ho celebrato la messa lì, e dopo mi serviva una colazione, che era un pranzo.